ciao ragazzi dopo due anni il torneo scolastico di calcio 5 contro 5 è tornato biegno e triennio due categorie si fronteggeranno per decidere chi è la squadra più forte, chi è il campione di questa scuola di calcio ci saranno dei gironi a cui seguiranno poi una eliminazione diretta come abbiamo visto negli stupendi europei di quest'estate dove l'Italia ha trionfato contro l'Inghilterra allora che cosa state aspettando? Iscrivete la vostra squadra e adesso passiamo la parola a quello che è il vero artefice di questo torneo un saluto ragazzi come vi dicevo siamo qui con la mente storica e l'artefice del torneo di calcio e vedremo poi anche di tanti altri tornei di quest'anno ma partiamo dal nostro torneo 5 contro 5 allora passo la palla proprio fisicamente all'artefice perché Andrea abbiamo un po' di domande da farti per tutti i nostri allievi allora prima di tutto cosa devo fare se voglio iscrivermi? allora molto semplice verrà distribuito in ogni classe un modulo da compilare in cui poter segnare la propria partecipazione di classe appunto ci saranno gli spazi appositi per inserire i vostri nomi per scegliere un nome della squadra nome che abbia un senso che non sia censurabile ok? altrimenti verrà cambiato direttamente da me non è che vi respingo l'iscrizione scelgo il nome che piace di più detto questo nel momento in cui voi lo compilerete potrete riconsegnarlo a me se mi incontrate in giro per la scuola oppure a Don Andrea una volta ricevute tutte le iscrizioni elaborerò il torneo e si possono fare anche più squadre della stessa classe? allora si possono fare più squadre l'importante è che ciascuno studente gareggi per una squadra sola ok? quindi devono esserci componenti diversi minimo 6 per squadra e poi dopo basta dopo si comincia l'importante è quindi che non ci siano classi squadre interclasse si quest'anno a differenza degli anni scorsi non è possibile mescolare le classi per cui o la squadra è realizzata all'interno della classe oppure non può essere presente la squadra di quella classe ok perfetto facciamo un po' se in più e per le ragazze che volessero intraprendere la loro militanza calcistica? allora le ragazze possono partecipare in due modi se riescono a fare una squadra completamente femminile e magari avessi un numero sufficiente per elaborare un torneo di squadre femminili allora benvenga anzi io vi invito a fare la squadra nel caso in cui i numeri fossero ridotti ma ci fosse il desiderio come classe di partecipare al torneo allora potrebbe nascere una squadra mista della vostra classe e questo è assolutamente consentito ovviamente poi gareggierebbe contro le altre squadre magari anche completamente maschili ok perfetto quindi c'è spazio anche per le nostre ragazze amanti del calcio e un po' di informazioni generali cioè se ho bisogno delle informazioni generali relative al torneo dove le trovo? allora una volta che io avrò elaborato il torneo cercherò di appendere un calendario in ogni classe e in qualche bacheca sparsa ai piani al secondo piano mi viene in mente la bacheca di legno che c'è a metà corridoio mentre al primo piano potrei sfruttare un angolino delle bacheche dei consiglieri o nelle zone vicine comunque sicuramente quello che dovete sapere è che nel momento in cui vi iscrivete vi impegnate a venire nei giorni fissati delle partite giorni che saranno il lunedì, il martedì e il giovedì tra le 1.50 e le 2.50 non si giocherà per tutta l'ora è contemplato il tempo per cambiarsi e rivestirsi perché sì ragazzi funziona come lezione è obbligatorio portare gli indumenti per giocare e le scarpe di ricambio perché giocheremo in palestra ok? nella palestra vecchia quindi servono più o meno 10 minuti prima e dopo per cambiarsi le partite dureranno 15 minuti a tempo con una pausa di 5 minuti in mezzo un po' per rifiatare e andiamo così a coprire quell'ora che c'è fra 1.50 e le 2.50 il giorno in cui giocherete la partita ce ne sarà nella peggiore delle ipotesi una settimana forse potrebbe capitare due negli incastri vari perché avrete anche la possibilità volendo di segnalarmi nel modulo di iscrizione i giorni in cui preferireste giocare se io riesco vi accontento se non ci riesco cercherò comunque di accontentarvi il più possibile quindi una partita a settimana quel giorno non esiste la mensa per chi partecipa nel senso che siete invitati a venire subito al termine delle elezioni così sfruttiamo l'ora piena che abbiamo e ovviamente poi alle 2.50 ci sarà chi dovrà cominciare a salire verso lo studio pomeridiano e chi eventualmente andrà a casa ok grazie mille l'ultima cosa che ti chiedo invece è per seguire un po' l'andamento cioè i vari risultati del torneo per sapere un po' come sta andando chi è capolista chi è più in fondo i risultati delle partite come sarà possibile farla questa cosa? allora faremo allestiremo un megacartellone sul muro della sala docenti quindi che dà sull'atrio principale della scuola in cui settimanalmente aggiorneremo classifiche dei gironi se riusciremo a fare i gironi e aggiorneremo anche i risultati delle partite ok in più come ulteriore pubblicità alle partite come vetrina un po' anche per le singole squadre ci sarà uscirà ogni giorno in cui ci saranno delle partite una storia sulla pagina ufficiale di instagram della scuola in cui uscirà il risultato e anche il miglior giocatore di ogni partita ok e a proposito di premi mi viene da dire quindi chi vince questo torneo cosa deve aspettarsi allora sicuramente avremo due vincitori avremo un vincitore per il biennio un vincitore per il triennio e alla fine dell'anno io premierò la squadra vincitrice sicuramente anche se non ho ancora ben in mente quali saranno i gadget che distribuirò però ci sarà un premio e ci sarà un premio anche per il miglior giocatore del biennio e del triennio e se ci sarà il torneo femminile anche la miglior giocatrice assolutamente sì bene allora ragazzi grazie ad Andrea grazie a tutti quanti voi e buon torneo e buona giornata non mancate di iscrivervi ciao ciao buon torneo ciao ciao Invincible